ebay ovviamente il più grande marketplace online l'online non può vivere senza offline quindi per noi è l'opportunità di portare il mondo prettamente online quello di ebay nella realtà reale offline quindi far conoscere le persone far toccare con le mani quello che loro possono vedere sul sito quindi per noi è un appuntamento fisso siamo al fuori salone ormai il quinto anno con diversi progetti diverse installazioni quest'anno è l'anno di fai da te